La squadra del Campobasso e Plastic Free uniti per contrastare l'utilizzo della plastica e per la tutela dell'ambiente. Oggi l'incontro con le scuole della città. Vediamo. Non solo sfide calcistiche, c'è una partita di grande importanza che vede il Campobasso in campo per una causa ben precisa. Sensibilizzare la cittadinanza alla riduzione dell'utilizzo di plastica. La società Rosso Blu collabora infatti da diversi mesi con l'associazione Plastic Free per raggiungere il primato anche al di fuori del rettangolo verde. Un progetto illustrato alle scuole della città all'ex Gil. Questo progetto si struttura in tre fasi. È attiva un'asta di una maglia, la maglia firmata da tutta quanta la rosa con una patch di Plastic Free che rimanda alla partita del 7 aprile. Oggi abbiamo quindi quest'asta è attiva dal lunedì 11 marzo fino al 20 marzo. E il ricavato chiaramente andrà in beneficenza all'associazione per svolgere le varie attività che è chiaramente tipiche. L'evento di oggi, quindi un evento di sensibilizzazione sempre come partner del Campobasso Calcio e ricordo anche il patrocino del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti e dei Lions e del Campobasso Calcio chiaramente. Terzo step è la partita Eco Event che si svolgerà per la prima volta qui in Molise in cui il Campobasso si impegna a eliminare l'uso di plastica monouso. Quindi sarà una partita appunto chiamiamola Plastic Free tra il Campobasso e lo United Riccione. In quell'occasione quindi il Campobasso si impegnerà a porre in essere tutta una serie di pratiche per eliminare la plastica e quindi chiaramente dare un impatto sulla sostenibilità e quindi rendere nella speranza che poi ci sia non solo una partita ma magari in un prossimo futuro ci possa essere proprio un percorso e quindi dare sostanzialmente l'esempio perché sono sempre più convinto che lo sport ma soprattutto il calcio possa dare un impatto forte. Puntamento importante quest'oggi che vede coinvolto in prima persona il Campobasso segno che si va oltre il calcio, oltre lo sport? Sì, si va oltre il calcio perché non esistono solo le battaglie di tipo sportivo. Noi in questo momento sappiamo che c'è tanto interesse intorno alle sorti del Campobasso Calcio e quindi possiamo farci anche promotori di altre battaglie più importanti anche di quelle sportive. Abbiamo raccolto l'invito di Plastic Free, siamo pronti a questo evento che ci sarà il 7 aprile, la prima partita di calcio totalmente Plastic Free allo stadio Avicor Selvapiana tra il Campobasso e il Riccione. In quella gara andremo a sostituire tutto ciò che di plastica monouso viene utilizzato la domenica all'interno di uno stadio con dei materiali che favoriscano soprattutto il riciclo. Qual è stato il ruolo carnine del Campobasso? Il Campobasso in questo momento, come dicevo, sta attirando l'attenzione di tante persone, non solo sportivi. Domenica avevamo oltre 3.500 persone allo stadio, ci sono tanti bambini che iniziano a seguire, quindi utilizzare la visibilità del calcio anche per trasmettere valori importanti, non solo i valori dello sport ma anche le tematiche ambientali.